abbiamo parlato di paesi sviluppati e successivamente andremo anche a parlare di paesi emergenti ma se si dovesse invece fare un discorso diverso meno geografico e più invece legato alla variabile tempo per cui un discorso temporale e in particolare di questo 2022 dove si potrebbe andare a parare bene oggi ti dico le mie impressioni su quali etf si potrebbero andare a valutare per questo 2022 ma tutto ciò solo dopo la sigla ciao a tutti e bentornato sul canale risparmio come sempre sono pasquale il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto oggi torniamo a parlare come ogni venerdì di etf ed in questo caso andiamo ad affrontare delle tematiche molto meno legate alla questione del lungo periodo o perlomeno non è questo la parte core del video ci orientiamo di più a capire se acquistare qualche etf in questo 2022 possa dare un vantaggio di breve o medio termine o se si possano trovare chicche sul lungo termine che magari sono a sconto in questo momento ci tengo a ripadire come sempre che questi non sono assolutamente dei consigli finanziari ma sono delle semplici mie considerazioni e che poi ognuno di noi dovrebbe andare a fare i propri approfondimenti le proprie valutazioni e considerazioni e non ascoltare semplicemente le opinioni di qualcuno che parla attraverso una camera come sempre adesso andiamo subito al pc e vediamo quali sono le mie scelte di etf per questo 2022 ed eccoci qui col primo etf ovviamente come sempre vi andrò a lasciare ice in e ticker nella descrizione del video ma partiamo con un vanek questa casa di etf che va sempre a produrre dei prodotti molto interessanti in questo caso vanek semiconductor il titolo la dice tutta si tratta di andare a seguire un indice delle aziende che vanno a investire nei semiconduttori con un cap per cui con un limite di un 10 per cento massimo ed epica le società di tutto il mondo che sono negoziate sulle borse degli stati uniti d'america e che sono appunto attive nelle industrie dei semiconduttori come appena detto la ponderazione massima per ogni singola azienda è massimo del 10 per cento una replicazione fisica totale non ha copertura valutaria ed è appunto quotato in dollari americani la politica di distribuzione e accumulazione mentre il ter è dello 0 35 per cento per quanto riguarda le prime dieci partecipazioni dell'indice abbiamo asml holding taiwan semiconductor nvidia intel qualcomm broadcom amd texas instruments applied material e infine micron technology dal punto di vista della diversificazione geografica abbiamo stati uniti con quasi un 74 e mezzo per cento poi abbiamo i paesi bassi 12 per cento taiwan quasi un 10 poi svizzera 1 33 ovviamente andando a seguire un mercato di semiconduttori possiamo capire che il 98 per cento è in relazione all'informatica per quanto riguarda i rendimenti come possiamo vedere ha avuto dei leggeri intracciamenti sui negli ultimi tre mesi sono quasi un 10 per cento che possono far tonare questo etf abbastanza appetibile è che per cui potrebbe essere una buona scelta per questo 2022 considerato che è vero che l'industria dei semiconduttori si è leggermente dipresa dalla cosiddetta crisi ma comunque le varie mobilitazioni in corso in termini di tensioni internazionali potrebbero farlo rintracciare un altro po e secondo me i semiconduttori saranno sempre più presenti nella vita di tutti i giorni il secondo etf è un mercato che per anni è stato bistrattato dopo appunto le sopravvalutazioni degli anni 80 è l'ixor japan per cui un etf che va ad applicare i titoli azionari giapponesi a più alta capitalizzazione nel cosiddetto segmento first section tse della borsa di tokyo un fondo da 900 milioni di euro con applicazione fisica totale con valuta in euro che è senza copertura valutaria una politica di dividendi a distribuzione di tipo semestrale è un terro dello 0 45 per cento le prime dieci partecipazioni sono toyota sony cayens recruit holdings tokyo electron mitsubishi nidec corporation shinetsuken oia e daikin industries per quanto riguarda la diversificazione per settori l'industria quasi un 23 per cento i beni volutuali un 19 per cento informatica 14 per cento finanza 10 per cento e poi altri settori quasi un 33 per cento per cui un etf abbastanza diversificato ovviamente andando seguire un unico paese che il giappone non ha senso andare a fare una diversificazione geografica in termini di rendimenti vediamo che in quest'ultimo anno il etf ha rintracciato parecchio però negli ultimi tre anni ha quasi dato un 19 per cento che comunque è un discreto rendimento considerato che il giappone è un paese altamente sviluppato e se lo andiamo a vedere anche sul grafico possiamo vedere che dal punto di vista della crescita totale praticamente dal 2009 questo etf continua a crescere a discapito di qualsiasi tensione internazionale che possa esserci in corso proprio perché il giappone se ne sta lì per i fatti soli ogni tanto qualche tensione con la cina ogni tanto qualche tensione con la corea però in linea di massima è un mercato piuttosto stabile sempre in crescita del suo etf non per tornare a parlare sempre delle stesse cose parliamo di rizze e andiamo a seguire però in questo caso l'ex trackers fuzzi e pranarit develop europe real estate per cui andiamo a seguire un indice che replica i rizi però solo per quanto riguarda la questione europea non c'è un rizzo americani in questo etf modo per diversificare la nostra esposizione anche sul mercato europeo per quanto riguarda il mercato immobiliare senza andare a fare dello stock picking un fondo da 781 milioni di euro con una replica fisica totale valuti in euro senza copertura una politica di distribuzione ad accumulazione è un terro dello 0 33 per cento se andiamo a vedere l'esposizione per ogni singola azienda il 40 per cento delle partecipazioni sono coperte dalle prime dieci posizioni abbiamo vonovia seguri leghi mobilian small big snag bogalaghet o come si legga land securities castellum swiss prime site e così via ovviamente in questo modo si possono anche abbeccare delle aziende che magari si cercavano in determinati mercati immobiliari e non ci sono riusciti a trovare magari andando a esaporarle da un rito come questo possiamo andare anche a beccare delle chicche che magari non avevamo valutato prima dal punto di vista della diversificazione geografica abbiamo quasi un 30 per cento nel regno unito quasi un 21 per cento in germania quasi un 15 per cento in svezia 9 per cento in francia e poi il 25 per cento e mezzo è coperto da altre nazioni dal punto di vista dei rendimenti è un rit che ha sempre reso diciamo negli ultimi tre anni ha dato degli ottimi rendimenti dando un 5 per cento di rendimento più o meno su base annua però se andiamo a vedere anche il rendimento massimo anche in questo caso abbiamo un mercato che sta in forte crescita e ha tra l'altro un leggero di intracciamento proprio a partire dal novembre del 2021 che potrebbero fare pensare a un ingresso anche in questo etf quarto etf per i deboli di cuore una share edge msi world minimum wall utilities e in questo caso è un etf che va a seguire un indice quello delle msi world che però è ottimizzato al più basso rischio assoluto per cui va a replicare i titoli azionali di 23 paesi sviluppati in tutto il mondo così come fa il solito msi world ma va a beccare solo quelle che hanno una volatilità molto bassa si tratta di un etf molto grande sono quasi 4 miliardi di gestione del fondo 3 miliardi 850 una replicazione fisica ottimizzata una valuta in dollari senza copertura valutare e come si vede rispetto agli altri etf che abbiamo visto finora la volatilità qui è al di sotto del 10 per cento una politica di distribuzione ad accumulazione è un tell dello 0 30 per cento è molto diversificato le prime 10 partecipazioni occupano neanche un 14 per cento dell'indice sono in totale 292 alle prime 10 abbiamo roche verizon west management nestle novo nordix pepsico johnson johnson's vertex pharmaceutical n'extra energy e degeneral pharmaceuticals diversificazione geografica quasi un 63 per cento negli stati uniti quasi un 11 per cento in giappone 7 e mezzo per cento svizzera 4,2 per cento circa in canada e poi il restante 15 per cento negli altri paesi del mondo dal punto di vista della diversificazione per settore abbiamo un 18 per cento in informatica health care 17 per cento telecommunication 13 e mezzo per cento i beni di prima necessità 12 e mezzo per cento e poi tutti gli altri quasi un 39 per cento a livello di rendimenti anche in questa fase di porti tensioni è un etf che sta rendendo parecchio e negli ultimi tre anni come si può vedere ha dato quasi un 10 per cento annualizzato che male non è sinceramente l'ultimo etf di oggi è un po diciamo l'ho già presentato diverse volte ma è una di quelle soluzioni che possono andare bene in qualsiasi tipo di situazione secondo me il vanguard life strategy 80 per cento per cui un 80 per cento investite in equiti e un 20 per cento in obbligazionario è un fondo ombrello come lo definisce just etf che va a replicare investire diciamo un 80 per cento in equiti a livello mondiale questo 80 per cento di asset è investito in titoli di mercati sviluppati ed emergenti mentre il restante 20 per cento investito in obbligazioni gli emittenti provengono da mercati sviluppati ed emergenti ma le obbligazioni sono sia denominate o coperte in euro un fondo medio per chi è nato da pochissimo 155 milioni di euro una leplica fisica totale una volatilità anche in questo caso bassina 9 11 per cento ma è normale essendoci anche del obbligazionario valuta in euro senza copertura ter dello 0 25 e politica ad accumulazione esposizione le prime 10 partecipazioni azionali sulle 15.004 per cui un etf fortemente diversificato sono ovviamente quella d'alta capitalizzazione abbiamo apple microsoft amazon alfabeto tesla facebook o meta come si voglia dire invidia taiwan semiconductore berkshire gateway dal punto di vista della diversificazione geografica abbiamo quasi un 53 per cento negli stati uniti quasi un 7 per cento in giappone un 4 per cento abbondante nel regno unito un 3,4 per cento in francia e poi il restante 33 per cento negli altri paesi del mondo settori 17 e mezzo per cento informatica quasi un 12 per cento in finanza beni volutuali un 9 4 per cento salute un 9 per cento abbondante e poi il 52 per cento diversificato su altri settori dal punto di vista rendimenti essendo un etf nuovo non ha molto senso andarlo a guardare però comunque in un anno ha dato un rendimento di quasi un 7,7 per cento che in questa tipologia di etf già diversificato male non fa ed è veramente ottimo come prodotto adesso abbiamo finito questi etf e torniamo al mio brutto faccione per i saluti e le ultime considerazioni bene bene eccoci arrivati anche alla fine di questo video dammi per favore le tue impressioni su questi etf se li conoscevi se già li utilizzi se le avevi in watchlist o se comunque secondo te sono delle ottime scelte per il 2022 spero sinceramente di avere un tuo feedback qui sotto di poter avere da parte tua anche un contributo per far crescere la community cerchiamo di aiutarci a vicenda con tanti commenti scambiamoci delle opinioni aiutiamoci a crescere vicendevolmente che bella parola lunga vicendevolmente precipitevolissime volmente come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di youtube e se sei nuovo su questo canale ovviamente iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun contenuto successivo oggi è venerdì come sempre ultimo video di questa settimana e per cui noi ritorniamo lunedì prossimo a riniziare la settimana con una nuova puntata di buonanotte mercati per cui ti auguro un felice fine settimana e noi ci vediamo lunedì prossimo ciao